Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla sesta vetrina di premio Lucio Dalla qui a Sanremo 2024. Io devo ringraziare le associazioni ANSPI e APSAS per averci ospitato per la seconda volta. La prima volta era quattro anni fa, poi c'è stato il Covid e non è stato più possibile, ci siamo dovuti appoggiare ad altre strutture. Per cui sembra che Palazzo Roverizio sia ormai la sede naturale della vetrina di premio Lucio Dalla e colgo l'occasione anche per ringraziare veramente di cuore il professor Mangione e il direttore responsabile di Palazzo Roverizio. Quindi un applauso e che sia veramente una sera dei miracoli per tutti quanti.